Tu vuoi giustizia e pace per gli esseri umani, ma comani siamo se non proviamo compassione? Nel film si dice una cosa molto bella e molto interessante, ovvero che è fondamentale il contatto, sentire il contatto, il calore delle altre persone, delle cose, degli animali in un presente in cui dietro lo schermo ci dimentichiamo che ci sono delle persone vere, fisiche, quanto è importante sentire il calore degli altri, che c'è una persona vera dietro quello schermo? Questa relazione è proprio importantissima, centrale nel film, il rapporto con la natura significa essenzialmente questo, il rapporto con le altre creature, che siano esseri umani, che siano animali, che sia la vegetazione o le rocce, che diciamo sono così importanti nel film e questo contatto cosa vuol dire? Vuol dire appunto sentire l'esistenza dell'altro, sentire la necessità e il bisogno del confronto, anche quando il confronto è aspro, noi credevamo, in Capri Revolution ci sono dei confronti aspri, ci sono idee diverse che si oppongono, che si articolano, però diciamo anche appunto come tra la figura di Seibu, del maestro della comune e del dottore, ma sempre però noi abbiamo chiaramente la sensazione che ciascuno discuta in qualche modo attratto dalla diversità dell'altro, c'è una continua attrazione per la diversità, c'è comunque un contatto. Questo è qualcosa che mi piaceva molto portare oggi sullo schermo, proprio perché siamo in questo tempo così freddo invece da questo punto di vista e così spinto a negare il confronto, che diciamo significa perdere ogni slancio vitale. Allora mi sembra invece importante riproporlo, insistere insomma, anche se in direzione ostinata e contraria, come si cantava. La giovinezza che lei sta esplorando molto in questi ultimi suoi film non è soltanto anagrafica, ma la giovinezza diciamo c'è quando c'è una potenzialità, le cellule quando poi si specializzano fanno solo quello, poi sono destinate a morire, invece quando c'è la potenzialità si può cambiare, si può portare il cambiamento. Questo penso sia molto forte nel suo film. Quanto è importante riuscire a trovare sempre una potenzialità nel mondo, cercare appunto di reinventarlo ogni giorno e quindi portare una rivoluzione? La potenzialità c'è sempre, però è a patto del confronto, nel senso che non c'è nessuna potenzialità nel considerarsi portatore di una verità. Leopardi diceva il vero e il dubbio. Allora di cosa ti devi portare? Devi portare naturalmente le tue idee, le tue passioni, le tue spinte, le tue convinzioni, ma devi portare soprattutto la tua capacità di ascolto, per cui le tue idee, le tue convinzioni, le tue passioni possono trovare forma vitale. Se invece diventano semplicemente appiattite come fosse dietro un muro, queste idee, queste convinzioni non sono più nulla. Cioè il punto non è tanto che nell'assenza di confronto tu perdi lo sguardo sull'altro, tu perdi lo sguardo su te stesso, perché perdi quella possibilità di vedere anche l'errore, anche il male che c'è dietro di te. Siamo esseri umani, siamo tutti partecipi di un unico modo di stare al mondo, fatto di bene, di male, di conflitti, di complessità. Allora poterlo guardare è decisivo, ma come lo si guarda se non attraverso il confronto con l'altro? A partire da quel contatto, a partire dalla danza di Capri Revolution si sviluppa questo senso, questa apertura, questo desiderio. La protagonista scopre se stessa quando fa esperienza di altre cose, lei diceva il confronto, impara leggere, impara l'inglese, scopre un mondo. Come si può in realtà, da questa conoscenza diciamo che poi si diventa più tolleranti, più aperti, noi vediamo oggi che persone che vivono sempre nella stessa realtà poi sono più restie ad aprirsi al resto del mondo. Quindi oggi, nonostante siamo più aperti perché abbiamo una tecnologia, come possiamo in realtà aprirci realmente e non rimanere chiusi? Io ho nessuna posizione, nel senso trovo… sono convinto per esempio che tra i giovani ci siano infiniti modi nuovi di rapportarsi e di confrontarsi. Non credo affatto che la civiltà in cui viviamo, cioè che gli strumenti non sono negativi in sé. Ricordo perfettamente dei ragazzi che assistevano a una replica di operette morali, erano lì con il loro smartphone e quindi chattavano, facevano eccetera. Bene, uno poteva pensare, sono distratti, non gliene frega niente. In realtà invece reagivano a quello che accadeva sulla scena ridendo nei momenti giusti, capendo tutta una serie di cose, nel momento stesso in cui potevano essere anche presi da una chat. Cioè voglio dire, nel senso che gli esseri umani cambiano, il mondo cambia e bisogna essere aperti a questa trasformazione. Il punto sei tu, cioè come tu poi ti rapporti appunto con gli altri, con te stesso e con gli altri. Lo puoi fare benissimo, insomma, ogni strumento è lecito, quindi credo che la questione sia solo e semplicemente umana, ecco, non è inutile demonizzare strumenti appunto come la rete o quel che sia, cioè sono gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi, piuttosto dovrebbe imparare a usarli. Ok, grazie mille.